l'Atalanta batte il Milan per 5 a 0 e chiude al quinto posto in classifica questo 2019, chiedo scusa per la voce, ieri era lo stadio bisognava per forza festeggiare quindi questo qua è il risultato anzi colgo anche l'occasione per ringraziare Ezio che mi ha riempito di caramelle per tutti i 90 minuti, sembrava davvero Natale, in campo i gol fuori mi arrivavano caramelle, ho scoperto mille gusti di gol ad ora quindi davvero un grazie a tutti io come sempre leggo tutti i giornali possibili, siti possibili prima di fare i video perché voglio cercare di soffermarmi su qualcosa che non sia scontato che non sia prevedibile, su elementi che non sono stati evidenzati perché non mi va di rubarvi il tempo che giustamente mi concedete anzi vi ringrazio se volete iscrivervi al canale siamo quasi a mille, è importante perché poi si sblocca una funzionalità su YouTube che potrebbero permetterci di fare delle cose molto carine e leggendo tutto ho trovato che secondo me c'è un passaggio che molti non hanno bene inquadrato la vittoria di ieri non è semplicemente la differenza tra una squadra troppo forte e una squadra troppo debole la vittoria di ieri è l'ennesima dimostrazione che l'Atalanta ha un meccanismo complesso che funziona bene, guidato da persone che ce ne sanno, sono coraggiose sanno fare bene il loro mestiere perché tutti ieri hanno esordito dicendo caspita l'Atalanta ha iniziato subito bene dai primi minuti ma ha iniziato subito bene perché un signore in panchina quei giorni prima ha individuato il punto debole il lato destro della difesa del Milan, Musacchio Conti ha messo lì Gomez che tutti noi lo sappiamo vuole giocare in mezzo sull'esterno non è che gli piaccia l'ha messo lì e lì ha fatto sfraceli il Milan ci mette, Pioli ci mette 20 minuti, 25 minuti lo racconta anche Dazon per riorganizzarsi e quando si riorganizza Gasperini aveva già pronto il secondo colpo Gomez in mezzo, Malinowski sull'esterno da lì in poi per il Milan che l'ha già di svantaggio è stato tutto un disastro perché voi pensate di metterci mezz'ora a pianificare un modo per arginare un fiume in piena e quando lo trovi si sparignano di nuovo le carte c'è cadi in disperazione è una roba veramente sconfortante mi spiace proprio quasi pena per la difesa del Milan ma questo è quello che è successo un signore in panchina che sa leggere le partite le sa preparare ma le sa anche guidare nell'arco dei 90 minuti e non è una cosa scontata non è una cosa scontata perché oggi la mania dei grandi allenatori è quella di dire voi compratemi i giocatori forti io li guido da un punto di vista di testa, di mentalità ma poi in campo se la sbrigano loro questa qua è la dichiarazione tipica di Allegri ogni volta e invece qua abbiamo qualcuno che il calcio lo sa ancora insegnare lo sa ancora spiegare lo sa ancora mettere in pratica e ti mette eccome in difficoltà tutto questo però non è possibile ovviamente se non hai dei giocatori di qualità che sappiano interpretare quello che gli chiedi che sappiano apprendere quello che gli insegni che sappiano avere la mentalità giusta e qua bisogna farlo un altro ringraziamento e mi piace anche sta cosa nell'ultimo video delle partite al signor Sartori al cover perché come diceva mi pare Radio 1 con i soldi di Cassie e di Conti si è rifatto mezza squadra la mezza squadra che era in campo ieri e che ha dimostrato di essere superiore allora vedi che l'affermazione dell'Atalante superiore assume un valore diverso assume un valore più complesso c'è un meccanismo non è casualità c'è un sistema che consuma produce e dà risultati e che signori risultati perché dobbiamo dare il merito giusto ovviamente a tutte le persone per il lavoro che fanno ma ieri credo proprio contro il Milan è la dimostrazione una squadra che ha fatto cento e passa milioni di acquisti viene fermata dall'Atalanta e allora lo rimando a quelli che dicono dobbiamo alzare il tetto in gaggi dobbiamo comprare Mandzukic dobbiamo comprare Messi no 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 la partita di ieri è stata la dimostrazione che il percorso che sta facendo l'Atalanta è il percorso giusto è il percorso sano è il percorso corretto e che se continuiamo così i risultati saranno sempre di più sono proprio contento di avere fatto questa chiosa l'ultima partita dell'anno perché suona proprio bene e ovviamente lasciatemi spendere un paio di parole per i giocatori clamoroso Ilicic pazzesco Gomez ottimo Pasalic buonissimo anche Malinovski che è un carri armato ma grandissimo anche la difesa ma io uno lo voglio menzionare in particolare perché lo sapete non so filava nessuno Gosens che partite sta facendo questo ragazzo muto zitto corre come un terreno si butta dentro come non so cioè si butta in aria senza problemi è una mina vagante un pericolo io ieri lo guardavo ed era entusiasmante entusiasmante vederlo giocare ma come tutta la squadra quindi anche quando abbiamo i giocatori macchinosi che noi stiamo qua io in primi sa dire è però su diamo fiducia alla società diamo fiducia a Gasperini che se li può reinventare se li può migliorare sicuramente riuscirà a farlo però davvero un grazie sentito ai ragazzi perché ieri ci hanno regalato una gioia che francamente non era minimamente pensabile e ci hanno dato anche delle forti rassicurazioni perché io lo dico sempre il girone di ritorno l'Atalanta vola e se queste sono le prevesse andiamo a divertirci tantissimo ed è la cosa che io auguro ovviamente alla squadra ma anche a noi tifosi perché ce lo meritiamo io come al solito vi ringrazio per avermi seguito e in questo 2019 per seguirmi ancora vi rimando come sempre ad atalantini.com per leggere tutte le informazioni colgo un'altra volta l'occasione oggi che è il 23 per fare gli auguri alla mia compagna che compie gli anni vabbè sfruttiamolo che ci va sempre bella figura e colgo anche l'occasione per augurare un felice Natale e un sereno Capodanno Ciao 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 Ciao